L'altro giorno mi ha incuriosito una notizia apparsa sul Corriere della Sera e sul Foglio che ci dimostra, al di là di quanto fondate ora possano apparire le notizie dei giornali, che il semplice fatto che se ne parla significa che un certo allarme c'è, giustificato o meno. E di cosa si parlava l'altro giorno? Già, di quanti soldati abbiamo in Europa, proprio testa per testa, per difenderci da un'eventuale avanzata russa, ora che sembra che l'avanzata in Ucraina potrebbe essere difficilmente contrastabile. In questo articolo di cui vi sto parlando e che oggi voglio condividere con voi per darvi un'idea di quanto poco tutelata sia la nostra Europa da qualsiasi minaccia, non solo quella russa, si facevano dei conti davvero allarmanti, che ci danno l'idea di come l'UE abbia investito in tutto tranne che in sicurezza. Ed è forse il momento di pensarci, perché la Nato potrebbe perdere uno dei suoi pilastri principali se dovessero vincere le elezioni repubblicane. Quando studiavo diritto dell'Unione Europea, erano gli anni 90, i manuali già da allora non facevano che dire che il prossimo passo dell'UE sarebbe stato quello di una politica comune in termini di difesa. Pensate, sono passati 35 anni e le parole sono rimaste solo sui libri. Però abbiamo almeno un'ottima legislazione che tutela il copyright. Sì. Quanti militari sarebbe in grado di mobilitare l'Europa per proteggere se stessa in caso di un ipotetico attacco della Russia? A questo quesito, come vi dicevo, ha risposto un articolo del Foglio che ha pubblicato un documento riservato, ma poi riservato, lo pubblicano che riservato è, ma dicevo, un documento che circola da giorni a Bruxelles con tutti i numeri delle truppe che ogni paese metterebbe a disposizione nel caso le minacce di Putin diventassero realtà, e cioè la guerra barcasse i confini dell'Ucraina. Il documento è formato da tre colonne, pensate quanto è riservato. Nella prima è elencato il numero dei militari attualmente in servizio in ciascun paese membro dell'Unione Europea. Nella seconda colonna è elencato il numero di riserve militari utilizzabili all'occorrenza. Nella terza colonna sono indicati i numeri relativi alle forze militari complessive che ciascun paese dovrebbe avere a disposizione nel caso in cui l'Europa fosse chiamata a sostenere uno sforzo bellico. La somma dei militari in servizio attivo, proseguiva il foglio, è considerata pari attualmente a 1.368.510 uomini. La Francia ha il numero più alto, 208.750.000 uomini, mentre invece la Germania, era al secondo posto, ne ha 183.500 e l'Italia seguiva al terzo posto con 165.500 uomini. La somma delle riserve totali arriva invece a quota 1.277.980, guidate da Francia al primo posto, anche in questo caso, cioè 254.000 uomini, e poi al secondo posto incredibilmente la Grecia con 221.350 e poi il Portogallo con 211.700 uomini, mentre quelle dell'Italia sono solo 18.300 presenze. Ora, se si somma questa cifra con quella precedente, si arriva a un numero definito relativo alla forza militare complessiva dell'Unione Europea da attivare in caso di guerra, che è 2.646.440 uomini, un numero inferiore nettamente alla forza militare complessiva della Russia, composta da circa 1.154.000 militari in servizio e ben 2 milioni circa di riservisti già coinvolti. Siamo quindi a 3.154.000 uomini, a cui poi però si aggiungono sempre i classici volontari presi dagli ex paesi dell'Unione Sovietica, che ogni tanto, non sappiamo quanto spontaneamente, si arruolano con i russi a rimpinguare le fila, come sta succedendo adesso in Ucraina. Ora, come vi dicevo, questi dati non dovrebbero ancora allarmarci, ma è un termometro della tensione che si vive mai come dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. E di questo dobbiamo ringraziare sicuramente gli attuali capi di Stato, non certo il popolo a cui di vivere in guerra non gliene frega nulla.